Coronavirus, l'aggiornamento giornaliero sulla situazione dei contagi in provincia mostra 83 nuovi positivi in 24 ore su un totale di 1024 casi attualmente presenti sul territorio. 45 le persone ricoverate negli ospedali di Belluno e Feltre, 8 quelle in terapia intensiva, 10 i ricoverati nelle strutture di comunità. L'Ulss Dolomiti ha emanato intanto nuove disposizioni che riguardano le vaccinazioni degli ultraottantenni. Per le persone nate nel 1940 l'appuntamento è a Belluno e Feltre il 14 marzo, a Tai di Cadore lunedì 15 e ad Agordo il 16 marzo. Domani toccherà alle persone nate nel 38 e nel 39. Chi non avesse ricevuto la chiamata potrà presentarsi nella sede vaccinale più vicina in questi orari all'ospedale di Belluno dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, al drive-in della peschiera di Feltre negli stessi orari nel piazzale Dolomiti di Tai di Cadore dalle 10 alle 13 e nel piazzale Tamonic di Agordo sempre dalle 10 alle 13. I nati nel 1937 infine verranno chiamati per un appuntamento entro il 22 marzo. E sempre in tema vaccini, l'AIFA ha vietato l'utilizzo sul territorio nazionale di uno specifico lotto del vaccino AstraZeneca dopo la segnalazione di alcuni eventi gravi in seguito alla somministrazione. Anche la Regione Veneto aveva ricevuto un quantitativo di dosi di questo lotto e ha già provveduto a bloccarne l'utilizzo come da indicazione dell'AIFA, è opportuno precisare, si legge in una nota, che è attivo un monitoraggio costante delle reazioni avverse che finora non ha fatto registrare episodi di rilievo, ma solo eventi lievi che si possono comunemente verificare dopo l'erogazione di un vaccino.